Preparatevi a vedere una chiesa un po' particolare, costruita dalla confraternita della Buona Morte. La confraternita si premurava di dare una sepoltura a chi non se la poteva permettere ed eresse questa chiesa per i funerali, dai colori cupi, piena di teschi e continui rimandi alla morte. I membri della confraternita erano di ogni estrazione sociale e si presentavano incappucciati per preservare l'anonimato e l'uguaglianza. Occhio al pezzo forte, i catafalchi, con i quali si portavano le bare, personalizzati con il logo della confraternita. Che robetta!